Aspetta, prendi la testa fuori Prendi la testa fuori, pane No, 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 no Dai, che lo faccio Stiamo facendo un video, Anto Anto Fai più ridere del bambuino, Anto Aiuto, non ti vedo Fai più ridere del bambuino Anto, sei meglio del bambuino Il culo dell'altro Sì, ecce bene questa volta è la piscina Anto, sei troppo sessi Io mi ero fico Oddio, mi canta Dai, non riesco a fare niente Eh, Anto, ti stiamo aspettando Se la fa Forse ha finito, hai fatto 10 euro No, no, no Non riesco a fare niente Non riesco a fare niente Non riesco a fare niente Ma non riesco a fare niente Ha finito la benzina Ma sei, ti sono finito 10 euro Eh, hai fatto 10? Ma non mi metti 10? Sei sicura? Madonna mia Eh, allora andrà avanti Ma scherzo la pompa Eh, allora ha finito Ma non mi ha fregato di un po' Ma va, è impossibile Ma chiede il signore Il signore ha capito Siamo marcia Comunque Sto ridendo Che è come una pazza Pirino video No, non te la faccio fare Oh Gio, questo deve venire via di qua Ma no, ma non hai mai uscito niente da qua ma tu sei impazzita mai schiacciato il numero della pompa quella non ha mai schiacciato il numero della pompa te lo dico io eh si no no tu non la metti là è il LV ce l'hai fatta? ce l'hai fatta? ma non ha messo niente no che devo andare tieni qua te adesso esce vai riprendi che puoi scegliere ma cosa si vede? non esce ti è io faccio la retro tanto io non sto a usarlo quella volta ti faccio un video perché sai da registrare vedi un boccettino no dai vedi un boccettino la voglia io non so usare questa cosa adesso arriva adesso è tu sei fuori spesso cosa succede? stai chiacciando? ma c'è anche che schiaccio non c'è troppo non è che tieni io tenerei in un pulso sai quella volta le devo tutta la vita guarda Davigliano ecco questa roba guarda guarda tira tira poi si ferma un boccino alla volta ma non è che dire te lo metto sul sito questo coso no ma è di impatto no ma vieni qua ma vai ma no guarda è dispensoso ah io so che viene ecco devo tenere tutto ogni un pulso che mi fa male il braccio ma è 23 euro dai ma che allora guarda che non dice niente e c'è l'aria tira fuori tira fuori ando con me davanti siamo a 6 euro guarda qui fuori è pazza devi schiacciare ma prima schiacciavo e ho guardato e usciva solo l'aria ma giuro siamo a 17 euro perché sono arrivata io finito pensa se non venivamo fino a 4 tanto tu non andavi più a casa ma chiamavi Stefano chiamavi Stefano ma sì santo Anto ma adesso non c'eravamo noi gli altri e non c'eravamo guardate ciao belli ciao ciao andiamo a casa guarda che riprendo fino alla fine e che entri in macchina ciao Anto ciao Anto basta ecco Anto voglio vedere che va via scusa ecco sembra un maggiolino quasi visto da qua guarda che va via guarda che va via